Il bilancio partecipativo Senti? Perfetto Allora buonasera a tutti Alto sistema il mio cronometro così cerco di stare nei tempi non rubarvi troppo Non rubarvene troppo Allora io non so Insomma inizio ringraziandovi perché è una bellissima opportunità Quella di 15 minuti Allora davvero vi ringrazio per la bellissima platea molto folta molto nutrita Non avevo dubbi insomma conoscendo la Rexando insomma che ormai è un'istituzione Credo sia a San Donato ma credo proprio in tutto il territorio milanese Sono un italiano perché è una delle prime reti civiche nate in Italia E niente quindi io sono veramente contento di essere qui e poter condividere con voi Questo quello che è un percorso che dura da oramai dieci anni Mi occupo di bilanci partecipativi del periodo da quando facevo il dottorato di ricerca Quindi da oramai dieci anni l'ho studiato nel mio percorso di studi e l'ho subito messo in pratica Proprio perché in Italia all'epoca era un periodo in cui i bilanci partecipativi non c'erano più Per cui non avevo proprio elementi su cui studiare E quindi ho detto ok iniziamo a farne qualcuno per vedere se realmente hanno un impatto Funzionano e come portarli avanti in maniera innovativa Quindi prima esperienza Canegrate che è stato un po' il progetto pilota Su cui poi sono innestati varie altre esperienze in giro per l'Italia La provincia di Pesaro Urbino, la Monza più in là E poi tutti gli altri comuni che si sono un pochettino agganciati E che dopo dieci anni si può dire che la pratica del bilancio partecipativo Ovviamente non grazie alla mia attività Ma grazie ad un'attività corale di amministrazione, di altre realtà, di università Sta tornando un pochettino in auge Perché faccio questa premessa? Perché così come può crescere, così può crollare nuovamente Perché ha bisogno il bilancio partecipativo di uscire un po' da quello che è la sua corazza Anche quello di essere uno strumento di democrazia diretta o partecipativa A supporto della democrazia rappresentativa, si suol dire Quindi uno strumento che l'amministrazione mette a disposizione della propria cittadinanza Per migliorare il rapporto magari col territorio E dare anche delle opportunità di coinvolgimento e di partecipazione più dal basso Perché una gabbia? Perché come il titolo che ho scelto Che in qualche modo porta avanti nelle nostre iniziative di Bipart Non è uno strumento ma è un metodo democratico Quindi un modo di vivere la democrazia diverso rispetto a quello a cui noi siamo abituati Noi siamo abituati a delegare la gestione della nostra vita comunitaria E con i bilanci partecipativi oggi cerchiamo in qualche modo L'amministrazione ci dà un pezzettino su cui noi sperimentiamo l'amministrazione Ma la mentalità sostanzialmente che mantiene, la mentalità di delega rimane forte In tutte le esperienze che io poi negli anni di ricerca universitaria ho visto esserci Cioè si mantiene comunque, non riesce in qualche modo in bilanci partecipativi A scardinare quello che è un po' la forma mentis E che in qualche modo impedisce i bilanci partecipativi di andare avanti E di crescere anche in termini numerici e di qualità Cioè comunque sia viene sempre visto come uno strumento Che oggi c'è, domani non c'è E che in qualche modo l'amministrazione è deputata a mettere a disposizione dei cittadini O togliere a seconda dell'occorrenza Non è visto come un metodo di gestione del territorio innovativo Non è visto soprattutto come un diritto di cittadinanza Quello di in qualche modo essere coinvolti periodicamente, costantemente e ciclicamente Nella gestione delle risorse Questo è un po' il punto di partenza E vado subito con la presentazione perché sono passati già 4 minuti Questo è quello del cronometro Ecco, noi siamo abituati un po', anzi chiederei a voi se avete altre parole Che diciamo si possono aggiungere a quelle che sono 4 Che sono un po' le parole chiave di un bilancio partecipativo Voti, cittadini, progetti e un budget Adesso io la platea credo che sia una platea di esperti Perché non so quanti di voi hanno già partecipato alle due edizioni di bilancio partecipativo Ma ad ogni modo credo che comunque rispetto a una platea di un altro comune Siate più esperti, quindi vi chiedo a voi se vi vengono altre parole in mente per descrivere Per indicare e per descrivere appunto il bilancio partecipativo Vincoli Come? Vincoli Vincoli Queste me le devo appuntare perché poi sono le cose interessanti Altro? Cioè la fattibilità insomma anche delle proposte, dei progetti legati al budget Altro? L'ultima dei limiti Limiti Sì diciamo che è un po' il frame è quello Verifiche Mi pare che sia proprio il tema caldo di San Donato, no? I vincoli, i limiti e le verifiche, no? Ok, altro? Ok Autonomia Come? Cioè? Nella continuazione nel senso che il bilancio partecipativo prevedeva Io ho partecipato come associazione nella stessa edizione Un'altra associazione, non Rexab Un'altra associazione non Rexab Prevedeva che ogni progetto poi trovasse in seto i fondi per andare avanti Sostenibilità quindi anche Sostenibilità Questo è un altro concetto interessante Fantastico Questo lo aggiungerei perché non è scontato Non è scontato parlare di sostenibilità E questo è un altro aspetto che credo sia il frutto dei tempi No? Non è una parola che negli anni passati veniva citata molto Anzi All'epoca quando c'era l'epoca delle vacche grasse L'amministrazione doveva mettere risorse Anche senza entrare tanto nell'ottica della sostenibilità dei progetti, no? Chiaramente molti dei progetti che le amministrazioni portano avanti intrinsecamente non hanno una sostenibilità Altrimenti non esisterebbero le tasse, non esisterebbe la coercizione dal punto di vista fiscale Ristrutturare dei parchi, chiaramente adesso ci avviciniamo a dei progetti di sostenibilità Con il coinvolgimento delle cittadinanze, regolamenti dei beni comuni Tutte queste forme che riescono in qualche modo anche a ridurre il carico non solo di gestione ma anche economico di beni Però comunque è un tema importante Scusatemi se non vado oltre ma vado veloce perché il tempo purtroppo corre Questo è in qualche modo, sono quattro parole chiave Ma questa in qualche modo è una definizione che negli anni ho cercato in qualche modo di consolidare Perché porta, include all'interno tutti gli elementi chiave di un bilancio partecipativo Dove sia chiaro, e lo dico anticipo già, invertirei i termini Non parlerei di bilancio partecipativo perché è molto fuorviante Ma parlerei di partecipazione civica dove l'oggetto di discussione in molti casi è il bilancio Perché, come vedremo più avanti, come vedremo in seguito Questo percorso è un percorso che ha a che fare con le risorse scarse, con le risorse comuni E il bilancio è una risorsa, ma non è l'unica risorsa che noi abbiamo dal punto di vista comunitario Per cui il bilancio partecipativo è un processo deliberativo, ciclico Attraverso il quale i cittadini individualmente, attraverso le proprie forme di aggregazione Decidono direttamente sull'uso delle risorse comuni Ora, siccome il tempo è breve, appunto mi è stato detto di spiegare in poche parole Cos'è un bilancio partecipativo Io do questa slide in maniera tale che voi, che siete in qualche modo anche voi abbastanza esperti Riusciate a vedere quanto la vostra esperienza ha tutti questi indicatori E li andiamo a vedere velocemente perché poi apriamo la parte, un esempio concreto È un processo, quindi come dire, non è un'iniziativa spot, non è un questionario, non è una survey, non è un referendum È un processo che, e lo vedrete, scusatemi non l'ho detto prima, ma sono tutte parole chiave che vedrete Appartengono a quello che è il concetto di democrazia La democrazia ha tutte queste parole chiave, no? Il processo, la democrazia è un processo Ogni 4-5 anni andiamo a votare, ok? E non esiste un'iniziativa spot E rientra nelle regole, la periodicità È deliberativo Significa deliberativo da questo punto di vista non decisionale perché decisionale è sotto Ma deliberativo dal punto di vista di un processo che ha come obiettivo quello di permettere alle persone di farsi un'opinione consapevole Questa è la deliberazione, c'è un percorso argomentativo tra pari e pari livello Diciamo pienamente quanto più informato possibile Quindi non è di nuovo un questionario, non è un referendum dove si è inchiamati Ovviamente i referendum prevedono anche delle fasi di informazione Ma è un processo dove le persone si devono conoscere, si devono scambiare le opinioni E devono avere tutte le informazioni quanto più possibili Per poter prendere una decisione consapevole in termini di proposte, progetti e di votazione finale Ciclico è relativo al processo, quindi deve essere periodico Quindi annuale, non è una cosa che si fa spot I cittadini sono gli attori protagonisti, non gli stakeholder E quando dico cittadini parlo di cittadini individui Individui è nelle forme aggregate Laddove le forme aggregate devono essere l'insieme dei cittadini Non l'associazione in quanto tale Quindi non, io sono un'associazione e quindi la mia proposta vale di più Di un cittadino comune Se tu sei un'associazione e la tua proposta è il frutto di un'associazione Vuol dire che ci saranno tanti cittadini che la porteranno avanti Ok? Come in parte si fa con i questionari voi che diciamo qui a San Donato Le aggregazioni quindi è la decisione Quindi devono essere processi decisionali Perché decidere cambia fortemente l'investimento di tempo per una persona Ok? La consultazione è qualcosa di diverso Perché la consultazione non implica una certezza Di che quello che è il frutto del processo poi verrà attuato Questo è fondamentale dei bilanci partecipativi E poi risorse L'ho tenuta volutamente generico perché risorse è intesa come risorse scarse Spazi, tempo e non soltanto budget Questo è un po' il bilancio partecipativo Sono stato molto veloce però vi ho dato gli elementi Che vi permettono in qualche modo di trarre Di trarre le valutazioni sui processi che voi siete chiamati a fare come cittadini Vado un po' ritroso perché in realtà Se questi sono tutti elementi che possono in qualche modo individuare Dare degli spunti di valutazione dei processi E far capire insomma come fare un bilancio partecipativo bene Quindi se è deliberativo realmente Oppure semplicemente un'aggregazione di like Un'aggregazione di voti o di preferenze Se è ciclico oppure spot e quindi come dire cambia La parte di decisione non soltanto dal punto di vista del progetto da finanziare Ma anche delle regole I migliori bilanci partecipativi prevedono anche un percorso di coprogettazione Di definizione congiunta delle regole Proprio perché non si tratta di un strumento Di un servizio dell'amministrazione dai cittadini Ma si tratta di un metodo E il metodo come in democrazia prevede delle forme anche di revisione delle regole democratiche Ok? Quindi quello che poi anticipa gli ultimi 5 minuti che ho È quello che dal mio personale giudizio è il bilancio partecipativo Noi siamo abituati a vedere il bilancio partecipativo come prevalentemente partecipazione Quindi generica, semplice, basic A realizzazione degli interventi Quindi l'oggetto del bilancio partecipativo L'obiettivo, l'oggetto del bilancio partecipativo È la realizzazione di cose concrete che possono servire la comunità Il bene comune Quello che è la sfida che io vorrei lanciare qui anche dal punto di vista della provocazione È quello di vedere il bilancio partecipativo come un processo di coinvolgimento della cittadinanza Finalizzato a creare le relazioni Dove l'oggetto decisionale Quindi il fatto di poter decidere su risorse scarse È un pretesto, un modo per permettere a una comunità Che è fatta di cittadini Ma è fatta anche di istituzioni È fatta di imprese Di mettersi in relazione Quindi è un metodo che serve a creare relazioni tra cittadini e realtà Laddove le realtà sono sempre composte da cittadini Sia chiaro questo Le aziende, gli imprenditori Sono sempre cittadini che hanno un ruolo diverso Un potere diverso, una capacità diversa rispetto ad altri Tutto deve essere visto nell'ottica dei cittadini Perché parlo di relazioni? Perché qui in qualche modo Relazioni tra cittadini Le relazioni possono essere orizzontali Quindi un vero bilancio partecipativo quando realmente riesce a creare relazioni orizzontali tra le persone Perché le relazioni orizzontali sono la base della deliberazione Io riesco a prendere una decisione collettiva, comune, consapevole Se riesco a sapere qual è l'opinione del mio vicino di casa Oltre al bisogno del mio vicino di casa Se io non ho l'opportunità di capire qual è l'opinione del mio vicino di casa E il bisogno Diventa un processo di competizione Su dei fondi scarsi Cioè una guerra tra poveri Quindi questi sono elementi fondamentali Per cui Relazioni anche tra cittadini e organizzazioni Quindi parlavamo di aziende Si faceva appunto l'esempio del crowdfunding Come vedremo essere una parte Magari secondo me su cui investire molto E cittadini e amministrazione Quindi amministrazione dal punto di vista anche dei tecnici Di chi ha il know-how Di chi ha la conoscenza di tutto l'insieme di una città Che un cittadino spesso non ha Perché parlo di relazioni? Proprio per parlarvi di questo Che è un po' l'esempio tangibile Per capire dove può arrivare Fin dove si può spingere un bilancio partecipativo È un progetto che vi invito a seguire Perché lo stiamo portando avanti E inizierà ufficialmente il 28 febbraio Quindi vi invito alle 6 di sera Se riuscite a essere a Milano A base in via Tortona A vedere un po' un racconto più di dettaglio Però è un esempio concreto di quello che vi dicevo Perché è un bilancio partecipativo Dove non c'è un comune e non c'è un budget Quindi mi direte come è possibile Eppure è un bilancio partecipativo Che faremo dentro un carcere A bollate Con i detenuti E dove il risultato Del processo deliberativo All'interno del carcere tra detenuti Che sia chiaro È un processo estremo Perché i detenuti vivono nei reparti E non dialogano tra loro Quindi non c'è internet C'è poco dialogo E quindi la sfida di creare relazioni È molto forte Internamente al carcere Ma ancora di più Esternamente al carcere Cioè Cioè con la comunità esterna Che soprattutto vive lo stigma Nel bene o nel male Di considerare quelli che sono Sotto misure cautelative Dei diciamo Gente che ha commesso dei reati Quindi si è posto fuori dalla comunità Ok? E del circuito di regole della comunità Quello che vogliamo fare con questo progetto È non solo creare relazioni orizzontali Tra detenuti In maniera tale da utilizzare quello come strumento di rieducazione Di sperimentare se dei processi deliberativi di partecipazione Riescono in qualche modo a portare il detenuto A creare comunità internamente E quindi al tempo stesso responsabilizzarsi In virtù di un'iniziativa che si fa assieme Ma soprattutto creare relazioni Tra la comunità interna e quella esterna Perché? Perché è probabilmente Credo il primo bilancio partecipativo Che si basa esclusivamente su un crowdfunding Su una raccolta fondi Che nasce dal basso E nasce dal coinvolgimento Non soltanto dei cittadini Come il crowdfunding solitamente fa Ma anche da un coinvolgimento Nel tempo di organizzazioni e aziende Le aziende eventualmente Dal punto di vista del contributo economico Ma anche dal punto di vista del contributo dei materiali Stiamo parlando di risorse Quindi noi potremmo avere dei progetti Che chiedono dei corsi di formazione Allora non serviranno esclusivamente soldi Ma serviranno competenze Per cui andremo a mettere in rete In relazioni le competenze Di alcune realtà organizzate Con quelle che vengono chieste Dalla cittadinanza carceraria E soprattutto una rete di organizzazioni Nella gestione Perché? Perché è un progetto Che stiamo facendo in maniera completamente gratuita Stiamo ovviamente presentando il progetto Per avere dei fondi Per organizzare il processo Ma essendo un progetto nato Così da un po' dalla follia nostra Di fare qualcosa di veramente dirompente Dal punto di vista dei bilanci partecipativi Abbiamo detto Facciamolo gratuitamente Non aspettiamo di avere dei finanziamenti E siamo partiti E questa natura Questa natura è totalmente gratuita Ci ha permesso di Sostanzialmente di creare un network Di organizzazioni Di organizzazioni Che ci sta supportando Per quello che è l'obiettivo principale Cioè raccogliere i fondi Per soddisfare quel patto Che stiamo facendo Con la comunità penitenziaria Cioè Noi vi facilitiamo Vi organizziamo il processo Dentro il carcere E vi aiutiamo a raccogliere le risorse Per fare quello che voi chiedete Perché uno degli aspetti Anche fondamentali Del rapporto che c'è Tra carcere e l'esterno E che spesso I progetti sono presentati Dall'esterno E diciamo I cittadini del carcere Usufruiscono Come fossero dei consumatori Di questi progetti Quello che vogliamo fare È capovolgere un pochettino Il meccanismo Per uscire anche da questo approccio Di delega Pure in questo ambito Per far sì che i detenuti Prendano la responsabilità Di decidere loro Cosa serve Per la loro comunità E noi in qualche modo Di trovare le risorse Questo ci ha permesso Di creare un network Di organizzazione Che va dalla Dall'associazione di autori d'immagine Che ha realizzato Oltre 50 illustrazioni Che metteremo in mostra E poi metteremo anche In vendita Come in una vendita di beneficenza E ci permetterà di raccogliere dei fondi Ci permetterà anche di creare Dei canali di comunicazione E ci permetterà di coinvolgere le scuole Che stiamo contattando in questo periodo Affinché le varie classi Le varie comunità Possano a se stesse realizzare Nuove illustrazioni E inserire ad esempio Nella piattaforma Per cercare di creare In qualche modo Una sensibilizzazione E dire Che il bilancio partecipativo È un metodo Che non necessariamente Si può applicare In contesti amministrativi Dove c'è qualcuno Che ha il potere Di dare delle risorse E di poterle In qualche modo Concedere Ma deve essere Un percorso Di sostenibilità Quindi sostenibilità Non soltanto Dell'output Del progetto Che viene fuori Dal processo Di bilancio partecipativo Ma sostenibilità Anche del processo In sé Quindi deve essere Una comunità Che in qualche modo Si organizza Affinché questo diventi Un po' il modo Il modus operandi Del diciamo Di funzionare Per prendere decisioni E finanziarle Chiudo Facendo appunto Un po' Un parallelo Sia per collegarmi Al discorso Che faceva Fabrizio E facevi anche tu Sull'importanza Del bilancio partecipativo Come relazione Perché loro parlavano Di un progetto Che poi volevano Mettere a disposizione Delle altre comunità Quindi un'expertise In qualche modo Attraverso un comune O un'autorità Diventa di dominio pubblico E mi faccio Mi collego appunto Anche al ragionamento Che faceva Relativamente Alla fondazione Di comunità Perché Cormano Non è competenza Della fondazione Comunità di Milano Però Mi ha fatto sorridere Quando Si parlava Di parchi accessibili Perché la proposta Il progetto Che è vinto Il primo bilancio Partecipativo Di Cormano Lo scorso anno È stato proprio Realizzare dei parchi Accessibili Però è un processo Che è nato dal basso E che quindi Ha tutta una sua Come dire Generatività Anche in termini Di responsabilizzazione Di cittadini E genitori Che si sono messi in rete Per portare avanti Questo progetto Su vari parchi E sfruttare Il budget Di 100 mila euro Per Si sono messi in rete Anche attraverso il budget Si è chiaro Quindi le relazioni Attraverso la possibilità Di poter decidere Realmente Su un budget Si è costituito Questo comitato Di genitori Che ha portato avanti Questo tema E che poi Ha affiancato L'amministrazione Spontaneamente In tutta la fase Di coprogettazione Fornendo know-how Fornendo le competenze Superando anche Quelli che sono I limiti Dei comuni attuali Cioè i comuni Hanno poche risorse Hanno poco personale Quindi la tecnologia E quindi il know-how Che è più veloce Delle dinamiche burocratiche Spesso impedisce I comuni Di poter avere Quello che serve Per la valutazione Di fattibilità Dei progetti Processi del genere Permettono di mettere In rete Il privato Il cittadino Con il pubblico E la sfida È quella appunto Di poi fare Il passo successivo È legare Legare Processi del genere Anche a percorsi Di autofinanziamento Sia chiaro Laddove c'è il comune Senza escludere La responsabilità Del comune Di contribuire Con delle quote Perché altrimenti Diventa un modo Per deresponsabilizzare Il comune E quindi Come dire Auto-organizzarsi Il processo Quando in realtà I soldi del comune Sono soldi Delle nostre tasse Credo di essere Andato un po' Oltre i tempi Quindi mi scuso Con Angelo Che poi mi seguirà Insomma Però spero Di essere stato chiaro Un po' E aver lanciato Un po' La provocazione Perché quello Era quello Insomma Che mi avete chiesto In questo poco tempo Vi ringrazio E insomma Vi aspetto il 28 A base Grazie a tutti